Endless Love anticipazioni. Immaginate un drammatico colpo di scena che vi lascerà senza fiato. Nella nostra amata serie televisiva, Endless Love, succede qualcosa di veramente sconvolgente. L'imprenditore Aki si toglie la vita davanti a Galip. Tutto ha inizio quando Galip nota una conversazione sospetta tra Emir, Asu e Mujgun. Questo episodio riaccende in lui antichi timori e sospetti riguardo a un possibile tradimento di sua moglie Mujgun con Aki. Ma aspettate un attimo. Cosa fareste se scopriste che la persona di cui vi fidate di più potrebbe avervi tradito? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Torniamo alla nostra storia. Aki decide di togliersi la vita di fronte a Galip per proteggere Asu dopo un confronto poco chiarificatore con lei. Galip, determinato a scoprire la verità, ordina ai suoi uomini di rintracciare il nascondiglio di Aki. Quando finalmente lo trova, lo minaccia con una pistola, chiedendogli se Asu sia sua figlia. Aki, che era stato l'amante di Mujgun, non è il padre biologico di Asu, ma ha sempre considerato la ragazza come sua figlia. Nonostante le sue parole sincere e cariche di emozione, Galip non è convinto. Aki, consumato dalla malattia, non ha paura di morire e ribadisce che Galip non ha mai meritato l'amore di Mujgun. Con un gesto estremo, si spara alla gola, chiudendo così la sua vita terrena nel tentativo di proteggere Asu. Questo atto drammatico non sarà sufficiente a fermare Galip, che decide di scoprire la verità sulla paternità di Asu tramite un'analisi del capello della ragazza. La serie Endless Love continua a sorprenderci con trame intricate e segreti familiari che si intrecciano. Ma ora, la domanda è, riuscirà Galip a scoprire la verità. Restate con noi per scoprirlo e non dimenticate di lasciare un commento con le vostre teorie.